e poi a un certo punto si è interrotto quel percorso televisivo che esura dalla musica, sono due vite parallele per tua scelta, non ti piaceva toglieva troppo tempo la musica e mi mi normalizzava troppo la televisione mi rendeva troppo familiare agli occhi della gente perché quando vedi un volto se io vedo Gianarris Scottia al ristorante è sempre che vedo mio zio non lo conosco io Gianarris Scottia ci siamo visti in qualche occasione ciao ciao però per dirti, quando vedo un volto troppo spesso in televisione poi mi dà quasi l'idea che sia un amico poi è il motivo per cui la gente spesso diventa maleducata quando ti incontri per strada io non volevo essere questo agli occhi della gente non che volessi fare il divo però sono pur sempre un rapper arrivo da un contesto che non è quello quantomeno questo è quello che pensavo quando avevo 23-24 anni non volevo nessuna distrazione da quella che era la mia strada prioritaria